È difficile parlare dell'Italia oggi? Per me scrivere per il New York Times significa innanzitutto scrivere per lettori degli Stati Uniti ma anche del resto del mondo. E le persone in generale sono molto interessate riguardo a quanto accade in Italia, dalla politica al cibo. Da questo punto di vista non ci sono difficoltà nel raccontare l'Italia, almeno non più di altri paesi. Le vere difficoltà nascono dal fatto che l'Italia è un paese realmente complicato a partire dalla vita politica ed è necessario lavorare molto per spiegare tutto questo al meglio. In Italia diciamo spesso che questo non è un paese per giovani, abbiamo straordinarie cose del passato ma forse non ne abbiamo a sufficienza per guardare al futuro. Qual è il tuo punto di vista? È una situazione simile a quella di tanti altri paesi europei, dalla Spagna alla Francia fino alla Grecia. Si tratta soprattutto di una questione di opportunità di lavoro per costruirsi una vita e una famiglia. E queste opportunità in paesi come l'Italia, la Francia o la Spagna oggi sono poche. Questo accade perché l'economia per troppi anni è restata bloccata e continua ad esistere un sistema dove le generazioni più vecchie mantengono il proprio lavoro per un tempo troppo lungo. Il principale problema che l'Italia deve risolvere è sbloccare questa situazione e creare opportunità. Solo così si crea lavoro. E penso che in alcune parti d'Italia si stia facendo tutto questo e lo si stia facendo molto bene. In altre parti del paese ci si dovrebbe sforzare di più. Se non crei opportunità per i tuoi giovani, sei destinato a vedere le forze migliori e più brillanti e abbandonarti. E purtroppo è quello che sta accadendo in Italia, con tanti ragazzi che si trasferiscono negli Stati Uniti o in Inghilterra. Sì, è un problema, ma non solo per l'Italia. È un problema, non solo per l'Italia.